torna per la settima edizione il festival fratelli burattini rassegna di teatro di figura per famiglie e bambini organizzato dalla compagnia fiorentina i pupi di stack attiva dal 1946 il calendario di quest'anno propone 23 spettacoli che andranno in scena dal 9 settembre al primo ottobre in 12 comuni della città metropolitana di firenze la più significativa novità di quest'anno è lo spettacolo della commediante clown guardi atter che si terrà al teatro corsini di barberino del mugello sabato 23 settembre fratelli burattini è un'iniziativa un festival importante un festival nato a firenze che è cresciuto nella città metropolitana un festival che parla al cuore delle bimbe dei bimbi ma che tende a parlare alle famiglie un modo di comunicare un'arte moderna che sa arrivare dritta dritta al al cuore voglio ringraziare i pupi di stack per il lavoro che portano avanti ogni giorno che stanno portando avanti da anni frutto di un lavoro serio di un lavoro impegnato di un lavoro di frontiera di un lavoro che sa arrivare al cuore delle giovani generazioni ma devo dire una bellissima tradizione che non smette mai di diventare una cosa nuova perché in realtà nell'epoca del digitale del tutto schiacciato su uno schermo credo che per i più piccoli trovare questa tridimensionalità e anche per noi a volte dello spettacolo visivo attraverso i burattini sia una cosa sorprendente che possa colpire l'immaginario è una tradizione importante che esprime una capacità artistica non solo nella realizzazione dei burattini che sono poi delle piccole opere d'arte ciascuno ma anche nella struttura della narrazione nella necessaria diciamo anche sintesi no della della narrazione della sceneggiatura credo che sia uno spettacolo bellissimo che mentre noi un po' più anziani può sembrare un déjà vu per i più piccoli credo che possa essere una davvero una novità no come spesso sono tanti anche oggetti o concetti della nostra storia che risultano oggi del tutto del tutto nuovi devo dire che grazie purtroppo va detto grazie alla pandemia fratelli burattini è uscito dal chiuso del te lo spazio teatrale e si è aperto a incontrare comuni persone piazze luoghi inediti ed è diventato prima una piccola esperienza fiorentina e poi sempre più allargata a diversi comuni della toscana una davvero un grande festival quest'anno dura quasi un mese che attraverserà tutta la toscana per questo siamo qui oggi a presentarlo al consiglio regionale perché crediamo che sottolineare quegli elementi della nostra tradizione culturale che non sono il folklore soltanto ma sono davvero il sentimento degli artisti che hanno abitato questo luogo che hanno saputo reinventare una tradizione come carlo staccioli con la con la lucia poli che rivoluzionò il palinsesto rivoluzionò le storie raccontate ecco tutto questo fa parte della nostra identità culturale e fa parte di una proposta culturale che guarda al futuro e questo è molto molto bello allora noi pupi di stack porteremo due o tre nostri classici sarà solo una presenza ma il piatto forte diciamo sono spettacoli ospitati anche dall'estero perché non è facile in stagione cioè durante l'inverno con il biglietto nei teatri avere queste occasioni di spettacoli un po' particolari che la daria vi avrà già spiegato e che sono giusti per un festival piuttosto che per una rassegna continuativa con un pubblico più popolare e più numeroso la città metropolitana ha contribuito al festival tramite il bando che la città metropolitana fa ogni anno il festival è riuscito a ottenere un altissimo punteggio proprio perché quest'anno ha deciso di espandersi in 12 comuni dell'area metropolitana di Firenze e questo ha fatto sì che la qualità del festival accrescesse non solo ha avuto anche grande coraggio non solo nel andare a toccare appunto molti comuni della nostra area metropolitana ma ha deciso di collaborare con tantissime realtà non solo dell'area metropolitana come quella di Catalyst ma anche realtà di fuori Firenze e di altre città di tutta l'Italia proprio perché hanno voluto dare una maggior qualità al festival nel cercare di toccare tantissime arti sceniche come prima parlava appunto il presidente di Pupi di Stack ma ecco noi come ente come città metropolitana di Firenze vogliamo essere presenti perché pensiamo che questo sia un servizio culturale che è assolutamente non solo efficace per il nostro territorio ma ne sente proprio l'esigenza di tornare a quelle arti che non danno messaggi veloci ai nostri ragazzi e continui come sono i cartoni animati di oggi o tutto quello che oggi vedono i nostri ragazzi che ha appunto una velocità che non dà a loro il tempo di riflettere di pensare di a volte anche un po' annoiarsi che sviluppa in questo caso la creatività e la fantasia sono tipi di spettacoli che aiutano i nostri ragazzi a vivere con lentezza un momento meraviglioso della loro crescita all'interno della fantasia e che gli fa sviluppare così un pensiero creativo maggiore noi come città metropolitana e come ente pubblico sentiamo appunto il dovere di doverci stare il dovere di continuare a contribuire a un festival come questo. Allora le novità sono molte questo festival nasce sei e sette anni fa per l'appunto e nasce come un vero festival di pochi giorni a causa della pandemia abbiamo cercato di trovare la soluzione per poter fare comunque questo festival nonostante fosse il settembre 2020 e tutti sappiamo in che condizioni eravamo ed è nata l'idea proprio di diffonderlo nei comuni. Questa cosa è così cresciuta ed è andata così bene che quest'anno abbiamo ben 12 comuni dell'area metropolitana fiorentina si sono aggiunti il comune di Reggello e il comune di Palazzuolo sul Senio. Gli spettacoli sono diventati 24 continuiamo dall'anno scorso a poter ospitare di nuovo compagnie estere quest'anno appunto abbiamo Gardi Uther che è una performer una clown di grandissima eccellenza a livello internazionale e la compagnia di articolo che viene dalla Germania. Abbiamo numerosissime compagnie che rappresentano il teatro di figura in Italia nelle più grandi sfaccettature cioè più vaste sfaccettature. Quello che caratterizza fondamentalmente questo festival è il fatto che andando nei comuni ognuno di loro diciamo accoglie il festival in maniera completamente diversa. Quest'anno abbiamo la nuova collaborazione col comune di Palazzuolo sul Senio al quale teniamo particolarmente che addirittura arriverà nelle scuole. Quindi diciamo che si parte da un discolto culturale ma poi si va ad abbracciare numerosi ambiti. Innanzitutto noi siamo veramente orgogliosi di poter collaborare a questo festival e in realtà proprio per esprimere rappresentiamo penso tutte le realtà che collaborano insieme ai pubi di Stack. Anche noi siamo una compagnia teatrale, gestiamo un teatro nel Mugello e quindi questo incrocio che è anche una conoscenza, una collaborazione che da anni ci accomuna con la compagnia dei Pufi e si concretizza quest'anno ancora di più con una collaborazione ancora più attiva e in qualche maniera noi rappresentiamo uno dei dodici comuni con cui poi la compagnia collabora perché l'idea proprio di un festival diffuso sul territorio provinciale è sicuramente un'idea vincente. La nostra collaborazione si concretizza anche nel riuscire appunto a portare quest'anno all'interno del festival Gardi Utter che è una delle clownesse internazionali, una delle pochissime donne che ha questa qualifica e che gira veramente in tutto il mondo in 35 paesi ed è veramente un evento particolare che riusciamo a fare proprio in collaborazione. Ci saranno dei biglietti ridotti per tutti coloro che partecipano alle iniziative del festival in tutti i comuni, in tutte le sedi delle iniziative e quindi speriamo poi a Barberino di concretizzare insomma una festa finale per questo bellissimo festival. Il prossimo lunedì 4 settembre 30 squadre si sfideranno per conquistare la vittoria della 45esima edizione del Giro del Valdarno, una delle classiche del calendario ciclistico toscano. La corsa aperta alla categoria Elite Under 23 si terrà nel territorio comunale di Figline Incisa Valdarno. La partenza è prevista alle 13 da Piazza Santa Lucia mentre il traguardo sarà come da tradizione in Piazza Marsilio Ficino. Sarà una giornata che richiamerà appassionati di ciclismo e non solo e un'opportunità per i giovani talenti di mettersi alla prova in questa prestigiosa competizione. La manifestazione è stata presentata a Palazzo del Pegaso. La Toscana è terra di sport, la Toscana è soprattutto terra di ciclismo e questa è un'edizione importante, la 45esima. Consentitemi di ringraziare il nuovo pedale figlinese per il lavoro importante che porta avanti ogni anno. Voglio ringraziare tutti i volontari che si impegnano a fare in modo che anche questa edizione sia un'edizione bella, sia un'edizione partecipata, sia un luogo in cui dare opportunità ai migliori giovani di tutto il mondo. Ogni volta che si investe su iniziative che riguardano i più giovani noi dobbiamo esserci perché queste iniziative consentono davvero di dare opportunità, di vedere crescere i migliori talenti ed è un modo per avvicinare ancora di più tante persone a uno degli sport più belli al mondo. Questa è una realtà internazionale che fortunatamente si sta ripetendo tutti gli anni e ci auguriamo ancora che vada avanti perché è una bella gara, hanno vinto dei nomi importanti di ciclismo italiano, Bartoli, Chioccioli, Paganesi, Bontempi, quindi ha una bella tradizione. Il percorso è il classico percorso che si svolgerà i primi 40 km su un circuito a Incisa-Valdarno nel territorio di Incisa-Valdarno e gli altri 130 km nel territorio di Figline, anche se il comune è lo stesso però le dislocazioni sono diverse. È molto impegnativa, attraverseremo il paese nove volte di Figline-Valdarno con l'arrivo in piazza Marsilio Ficino. Chiaramente questa è una manifestazione di prestigio, fra le gare più prestigiosse ci sono in Toscana sia per l'Albo d'Oro sia per come viene organizzato, quindi faccio tanto complimenti all'organizzazione in particolare al Presidente Sarri perché non è facile organizzare una gara così lunga e impegnativa con 30 squadre, quindi tanti corridori prestigiosi. Basta vedere l'Albo d'Oro, non per nulla c'è stato un corridore che ha preso la maglia rossa a Lovetta due giorni fa che l'ha vinta due anni fa, quindi per capire i target di questa gara. È una classica che apre i festeggiamenti del perdono, i festeggiamenti del perdono contraddistinguono tutto il Valdarno, Arretina e Fiorentino a girare da un comune dopo l'altro. La corsa di Figline, la corsa ciclistica organizzata con grande impegno dal nuovo pedale figlinese è un grande avvenimento di sport, uno dei più importanti di tutto il Valdarno e di tutta la Toscana e dobbiamo un ringraziamento a chi contribuisce, a chi si impegna per la realizzazione di questa bella manifestazione sportiva perché organizzare una bella corsa vuol dire metterci tanto impegno e tante risorse e quindi da parte nostra un grande ringraziamento a tutti i volontari del nuovo pedale figlinese un'associazione che merita tanta attenzione e che ha nel comitato d'onore nomi importanti come Chioccioli e Moser quindi è stato importante anche per il Consiglio regionale poter contribuire a questa manifestazione che qualifica lo sport e che qualifica lo sport nel Valdarno e nella Toscana. Quello che cambia è che quest'anno la gara ciclistica si inserisce all'interno della programmazione del cinquantesimo palio di San Rocco che è chiaramente un'occasione speciale per la nostra cittadinanza ormai questa sinergia tra la corsa ciclistica e il palio che è un elemento identitario durante l'anno per tutta la nostra comunità va avanti da tempo con grande soddisfazione e con grande impegno di tutti i volontari e le associazioni che lavorano per questa grande occasione. Chiaramente la corsa che stiamo a presentare stamattina è un elemento di grande soddisfazione per tutta la cittadinanza e lo testimonia anche il fatto della grande partecipazione di aziende, sponsor e singoli cittadini che fanno la loro parte per far sì che tutto questo possa svolgersi nel migliore dei modi e ponendo questa gara ormai in un panorama nazionale e internazionale delle corse per gli Elite Under 23. Quindi veramente grande soddisfazione da parte nostra. Ci sarà un ringraziamento chiaramente anche a Città Metropolitana e a Regione Toscana che hanno deciso anche quest'anno di collaborare all'organizzazione di questa forza e di fare la loro parte anche nel valorizzarla. Questo per noi come Comune di Figliencisa è un grande elemento di soddisfazione che pone lo sport deciso di Figliencisa al centro della Toscana e dell'Italia per questo piccolo fine settimana del perdono. Quindi veramente un ringraziamento a tutti che li hanno lavorato. Per noi è ormai diventato importante essere accanto a queste manifestazioni sportive perché non soltanto hanno lo scopo di promuovere lo sport ma anche di far conoscere la bellezza dei territori e dei luoghi dove si svolge la competizione. Quindi è un mix di quei concetti che abbiamo tenuto dentro anche il nostro forte volere in Città Metropolitana una grande manifestazione che è il Tour de France. Quindi il concetto è sempre lo stesso, cercare di investire risorse nel mondo dello sport perché non soltanto sono importanti per continuare a coinvolgere i giovani all'interno di quella realtà che a mio avviso è una realtà educativa, valoriale, che è il mondo dello sport ma anche perché attraverso questi investimenti possiamo valorizzare i nostri territori possiamo migliorare anche la rete viaria dei nostri territori investendo sulla sicurezza stradale e soprattutto di portare quel messaggio che lo sport spesso ha avuto nella storia di essere un mondo dove non esistono differenze, dove non esiste nessun muro dove la competizione è sicuramente uno stimolo ma una volta finita la competizione si smette di essere avversari e si diventa amici.